In Italia solo l'8,5% delle sigarette è contraffatto e il nostro paese è uno dei più all'avanguardia nella lotta al mercato illegale. È quanto emerge da uno studio Ambrosetti in collaborazione con Philip Morris Italia. I dati sono molto gravi, peraltro l'Italia è uno dei paesi migliori in Europa sul piano della lotta all'illegale e all'illecito e quindi anche al contrabbando. Il mercato mondiale della contraffazione è del 10% circa, quello europeo attorno all'11%, il mercato italiano è l'8,5% del totale. Stiamo parlando di un danno per l'erario, per l'incassi per lo Stato attorno al miliardo di euro circa, quindi è una cifra molto significativa soprattutto se pensate che per questo stesso valore per poco non è caduto il governo sull'impatto dell'aumento dell'IVA sul famoso 1% in più di poche settimane fa. Servono quindi sempre più controlli per frenare la diffusione di prodotti illegali. La nostra posizione in generale per tutti i prodotti contraffatti è quella di cercare di combatterli, siamo l'ultimo anello di una filiera importante e siamo gli esattori in fin dei conti, coloro i quali dovranno vendere il prodotto per poi passarlo secondo quelle che sono le disposizioni, per esempio per i tabacchi, a quelli che sono gli agi molto importanti per lo Stato. Quindi noi siamo in prima linea per combattere questi fenomeni.